Buongiorno, benvenuti, oggi siamo a San Polodenza in via San Matteo, siamo a pochi passi dalla piazza del paese. Oggi ho il piacere di farvi vedere un bellissimo appartamento al primo piano in questa palazzina che è già libero, libero da subito. Andiamo a vederlo. Eccoci all'interno dell'appartamento, qui ci troviamo a un bel salone luminoso con una loggia coperta, la casa si compone inoltre di una cucina abitabile con un'altra loggia, due camere da letto e un bagno per un totale di 90 metri quadri circa. Vi do un saluto da questa meravigliosa loggia, vi ricordo inoltre di un'altra loggia, inoltre che l'appartamento ha garage e cantina al piano terra, ha già motori dell'aria condizionata in tutte le stanze e soprattutto non ci sono le spese condominiali. Per saperne di più o per fissare la visita chiamatemi e venite a me trovare, siamo a Montecchio Miglia in via Iones del Rio numero 3. Ciao, un saluto e a presto. Ciao, un saluto.